Buongiorno, sono Sergio Maneggia, presidente della cooperativa L'edificio Pozzolese, che si trova nel comune di Castiglione del Lago, uno dei borghi più belli d'Italia, situato sulle sponde del lago Trasimeno, splendida cornice e umbra. La nostra cooperativa è costituita da 250 soci, è una cooperativa storica, ha compiuto i 50 anni nel 2019 e ci impegniamo costantemente alla produzione di olio di alta qualità. In un momento così difficile per il nostro Paese e per il mondo intero, vi invitiamo a rispettare le regole imposte dal nostro governo, sperando di poter ripartire prima possibile. Vi aspettiamo nella nostra regione, nelle nostre aziende, per assaggiare i nostri splendidi prodotti agroalimentari.